Un saluto e ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per l'avvio della nuova settimana persisterà l'afflusso di correnti più fresche dai Balcani in un contesto comunque anticiclonico e quindi di alta pressione. Le temperature saranno più in linea alle medie del periodo anche se a tratti saranno ancora al di sopra in un contesto climatico comunque piacevole. Non mancheranno ampi spazi soleggiati tra lunedì e martedì, transiterà sì qualche annuvolamento ma il contesto sarà sempre stabile e la ventilazione a tratti sarà ancora moderata o sostenuta per la giornata di lunedì 20 in attenuazione da martedì. Ma attenzione perché nella seconda parte della settimana qualcosa potrebbe cambiare. Per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito come sempre a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.